Salve amici e benvenuti anche oggi per un nuovo video. Oggi volevo parlare un po' di Judas, un gioco che ho sotto il mio radar. Questo perché dietro Judas c'è Ken Levine, che è il padre di Bioshock, Bioshock Infinite e in parte anche di System Shock, per i più anziani. E Judas è l'ultimo suo lavoro sotto il quale sta lavorando appunto da una marea di tempo. Si erano viste le cose qua e là, delle presentazioni negli ultimi anni, ma non si sapeva bene ancora il gioco, come fosse strutturato. Si era semplicemente visto che, almeno visivamente, era molto simile ai vecchi Bioshock. Ma negli ultimi giorni si è saputo qualcosa di più. Ha fatto un po' di interviste, soprattutto con degli host americani, e se andate a cercare ci sono delle interviste anche molto lunghe, tipo due ore, due ore e mezza. E da queste interviste sono stati estratte, ovviamente, articoli, video e, insomma, un po' tutti nel settore ne hanno parlato. Quindi in questo video facciamo un piccola sintesi delle ultime, insomma, notizie che sono arrivate, anche per rimanere un pochettino sul pezzo. Anche se, effettivamente, la data del gioco non si sa ancora. Penso che sicuramente non uscirà quest'anno e forse l'anno prossimo, però non c'è ancora nessuna data rilasciata. Però riprendere questa informazione, secondo me, è interessante, anche perché la struttura pare essere non quella che magari molti sarebbero aspettata. Infatti, sembra un gioco un po' roguelite. Hmm? Roguelite. Molti potrebbero rimanere stupiti, proprio perché Ken Levine, insomma, uno che scrive anche storie di un certo tipo, e di solito i giochi roguelite non si sposano benissimo con delle narrazioni ben scritte o ben precise. Ma pare proprio che la componente roguelite sia importante. Ma quindi cosa sappiamo di questo Judas? Allora, intanto Judas è il nome della protagonista, che fondamentalmente è l'unica sopravvissuta in una nave spaziale che sta facendo un viaggio intergenerazionale tra la Terra e Alfa Centauri. Una bella premessa. Così come nella super città sottomarina distopica di Rapture in Bioshock, questa nave spaziale diventa un altro palcoscenico di follia. Perché la premessa narrativa è che appunto lei è l'unica sopravvissuta, si sveglia, viene anzi praticamente ricomposta da una sorta di stampante 3D organica, e andiamo a capire che questo viaggio è andato abbastanza male. Infatti questa umanità si stava spostando, stava scappando dalla Terra che ormai era andata a farsi friggere, e stava affrontando appunto questo viaggio intergenerazionale, perché servivano ovviamente tante generazioni, per arrivare Alfa Centauri, ma le cose sono andate storte. Quindi ci sono dei flashback qua e là, che probabilmente noi dovremmo ricomporre anche per capire la storia. Ma la base è che appunto noi siamo la protagonista e dobbiamo anche interagire con tre sorte di figure importanti all'interno di questa nave spaziale, che però non sono più umane, sono degli androidi, sono delle sorte di intelligenza artificiale diventate, ma effettivamente prima erano degli esseri umani. E addirittura sono una famiglia, cioè c'è un marito, una moglie, o comunque una compagna e una figlia adottiva. Solo che ovviamente è tutto molto distopico. Queste tre figure fondamentalmente incarneranno per certi versi tre filosofie di pensiero che noi dovremmo eventualmente decidere se stare con una, stare con l'altra, andare contro, essere neutrale o cose di questo tipo. Ma ognuna di queste tre figure avrà i suoi obiettivi. E in tutto questo dovremmo muoverci all'interno di questa nave spaziale, però appunto con una struttura che sembrerà essere una sorta di roguelite. E voi direte, quindi sarà tutto a caso, randomico, l'hanno spiegato in maniera molto, come dire, quasi artistica, introducendo questo concetto di lego-narrativi, che insomma è interessante, per dirci più che altro che all'interno di questa sorta di procedura-duralità non è solo una questione di asset, quindi non è solamente che ci sono magari stanze, nemici, enigmi o quant'altro che vengono rimescolati a caso, ma è una questione anche di narrativa. Ci sono blocchi narrativi che effettivamente vengono decisi dal gioco come affrontarli da noi, però a seconda delle nostre decisioni cambieranno. E tutto cambierà. Quindi in teoria tutte le run saranno abbastanza diverse a seconda anche delle scelte. Ora, questa cosa è estremamente ambiziosa e bisogna vedere se funziona o no una cosa del genere. Anche altri giochi ci hanno provato, ma non sempre ovviamente ci sono riusciti, perché è una cosa complessa, soprattutto per quanto riguarda la narrazione. Anche se tu scrivi a mano pezzi narrativi, ma poi li devi rimescolare o far rimescolare, che ne so, da appunto una intelligenza artificiale per far sì che siano reattivi alle scelte del giocatore, ok, non mi sembra che molti giochi ci siano riusciti benissimo, cioè alla fine non esce una gran storia. Però dall'altro canto, Ken Levine è abbastanza famoso per scrivere anche belle storie e tenerci molto nella narrativa, quindi vedremo. È interessante. Tutto questo condito con un gameplay che però effettivamente, almeno in quello che si è visto, è abbastanza reminiscente, insomma, dei vecchi Bioshock, in particolare quelli che ha fatto lui, cioè il primo E-Infinite. Cioè sembra proprio quello stesso stile di immersive sim e di gameplay in prima persona, dove in una mano abbiamo un'arma, in un'altra mano abbiamo dei poteri, possiamo anche interagire in maniere diverse, perché la nostra protagonista, questa Judas, è una hacker, quindi può hackerare tutte le cose meccaniche, elettroniche che ci parlano davanti. Quindi il gioco sembra molto reattivo, strettamente dal punto di vista del gameplay, anche con l'ambiente, ok? Quindi sembra molto simile a quei Bioshock. E anche artisticamente lo stile sembra vicino ai Bioshock. Quindi sono tutti elementi che almeno per me sono estremamente interessanti, perché io ho adorato i Bioshock, e tra parentesi adoro anche il genere dei roguelite. Ovviamente se sono fatti bene, quindi per me questo potrebbe essere un gioco super interessante, ma tantissimo. Però effettivamente bisogna vedere poi dove tutto andrà a parare, e se poi si riuscirà a amalgamare questa cosa, e a rendere anche la narrazione interessante, su una base che comunque, con questi Lego narrativi, sembra decisamente procedurale per certi versi. Comunque vorrei finire leggendovi dei virgolettati, proprio di Levine, su questa questione del Lego narrativo, in modo da renderlo un pochino più chiaro, anche se non è chiarissimo. Quindi insomma vi leggo questi virgolettati. Riguardo appunto il Lego narrativo, hai a disposizione un mucchio di mattoncini preconfezionati, progettati molto bene e capaci di comunicare fra di loro. Sanno come interfacciarsi l'uno con l'altro, ed è questa la genialità della cosa. Si possono costruire, e quante cose si può costruire con quei mattoncini? Avete dunque un insieme di elementi fatti a mano, ma con una serie di regole che si basano sul modo in cui si combinano. Ciò significa che utilizzando questi mattoncini si può creare qualsiasi cosa, o quasi. Quindi, riprendendo la metafora dei Lego, abbiamo iniziato a pensare, potremmo usare gli elementi artigianali, che non sono solo enormi livelli interi, ma sotto elementi, come parti di dialoghi, pezzi d'arte, texture, mappe, incontri, bottini, persino il layout dell'intera esperienza, e suddividerli in pezzi modulari per poi istruire il gioco. Lo chiamiamo pseudo-procedurale, perché non è come in Minecraft, dove tutto viene generato da una serie di euristiche matematiche. Si costruiscono tutti questi elementi più piccoli nel gioco, e poi si insegna al gioco come creare buoni livelli, e buona storia, e soprattutto come reagire a ciò che si fa. Così, quando decidete di dire non voglio fare questo, voglio fare quello, Judas sa come comportarsi. Mentre in Bioshock, i infiniti giocatori hanno cercato di fare altrettanto, ma il gioco si è fatto prendere dal panico e ha detto non posso farlo, non posso fare niente di tutto questo. Questo perché c'erano state sempre molte critiche su Infinite, su alcune scelte che non si potevano fare, diciamo così. E sempre su vergoletta tutto quello che sto dicendo, stiamo parlando di un elemento di ricerca e sviluppo importante, perché ancora una volta al giocatore possono anche non interessare i dettagli. Alcuni utenti magari sono super interessati a quelle cose, ma in generale l'esigenza è quella di avere una grande esperienza. Naturalmente per noi l'obiettivo è come si fa a realizzare un gioco che vi conosce così come voi conosce lui. Insomma ragazzi, a me sembra che vogliono fare qualcosa di procedurale, ok? Però con in mezzo anche la narrativa e con qualcosa di reattivo, ok? Un po' mi ha ricordato quello che succede anche in Eides, però in Eides è qualcosa diciamo di leggero, sono delle interazioni ogni volta che voi morite ci sono delle battute, è molto figo Eides, però non è che stravolge quello che succede o stravolgono i livelli a seconda delle vostre scelte, quindi questo è molto più radicale in teoria. Però onestamente l'unico modo per capire se qualcosa funziona o non funziona è poi provarla. Che dire ragazzi, sono molto interessato però ovviamente al tempo debito vedremo un po' meglio quando si sapranno anche cose più specifiche e si saranno anche avuti degli endzone veri e propri perché comunque secondo me siamo abbastanza lontani ancora dalla data di uscita. Insomma, la cosa figa è che non sembra comunque una semplice copia di Bioshock ma ci sono delle idee ambiziose dietro interessanti. A questo punto ragazzi la parola a voi fatemi sapere un po' cosa ne pensate, sapevate di questo Judas, vi interessa anche a voi, siete stuzzicati, vi piaceva Bioshock? non lo so, fatemi sapere tutto quello che volete sotto nei commenti. Noi ci becchiamo comunque prossimamente per altri video qua sempre sul gaming. Grazie per l'attenzione, statemi sempre bene e alla prossima. Ciao ciao!